Radio Radicale, dunque il presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo, come sapete anche leader del movimento per le autonomie, è indagato di concorso esterno in associazione mafiosa. Lo sapevamo già in modo informale, adesso la notizia sta tutta nella ufficialità che parte dalla notifica di avvenuta chiusura delle lunghe indagini dei pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia di Catania. Attualmente senza procuratore capo c'è un reggente come da rito l'anziano reggente, il dottor Patanè, una vecchia conoscenza dei navigati cronisti giudiziati della Sicilia. E' una vicenda che ha inevitabilmente il suo impatto politico da questo punto di vista, per quel che può interessare Radio Radicale, come sapete il PD nel meridione in generale non gode di buona salute, per una serie di pasticci che lo hanno attraversato, forse anche quello siciliano, non è un caso che Pierluigi Bersani, il segretario nazionale, ha appena detto che bisogna a questo punto riconsiderare la situazione del governo Lombardo, ovvero facendo capire chiaramente di ridiscutere, di rimettere in discussione la partecipazione del PD, la contiguità del PD con colui che si definisce in questo caso Lombardo, la persona che più di tutti ha liberato la Sicilia dal cuffadismo e dal dellutrismo. Una frase sicuramente a effetto, grande effetto comunicativo. L'inchiesta di Catania che riguarda Lombardo, ma anche il fratello, diversi politici, imprenditori, mafiosi, mafiosi aspiranti tali, è un'inchiesta assai complessa, anche per, non solo per la corposità del faldone, come si usa dire, ma anche e soprattutto per il numero di imputati che cominciano a prefigurare, ove si configurasse il rinvio a giudizio, numeri davvero da maxiprocesso. Questa trasmissione a radio radicale servirà un po' a uso didattico, un po' a uso di contesto, come spesso usiamo a fare, a uso didattico per capire se questa inchiesta è un'inchiesta che ha una parvenza di serietà nei suoi presupposti investigativi, soprattutto di quelli requirenti non sapremmo dire, per cercare soprattutto di capire se non ci troviamo davanti a uno dei tanti casi giudiziari che possano anche far dire un giorno a Raffaele Lombardo di essere un nuovo caso, tortora, questa poi è un'abitudine che hanno preso un po' tutti i protagonisti sovraesposti alle cronache che contano. Quindi cureremo una parte anche tecnica nei dettagli dell'inchiesta, per quanto possibile le vicende siciliane, sapete che sono da sempre state assai complesse, qui non ci troviamo in un processo semplice dal punto di vista del racconto come può essere il cosiddetto caso Rubbia a Milano. Però, tuttavia, con l'ausilio di due ottimi giornalisti di cronaca, cercheremo di raccontarvi una vicenda che forse va al di là della facile battuta che se questa inchiesta si ferma soltanto al pentito che dopo 30 o 40 anni, non ricordo, ha riconosciuto Raffaele Lombardo come colui che ha incontrato, certo, la suggestione del caso, il capo dei capi delle cosche catanesi, Santa Paola, certo, forse qualche dubbio viene al cronista, visti anche i precedenti dell'andanzo di alcuni processi eccellenti che si sono celebrati nel capoluogo siciliano. Allora, intanto presento due ospiti che abbiamo qui negli studi di Radio Radicale. Antonio Condorelli, da una parte, responsabile dell'inserto S che appartiene al gruppo editoriale lavisicilia.it, anche un collaboratore di Report, il programma di Milena Gabalelli, ben trovato per la prima volta ai microfoni di Radio Radicale. Antonio, ciao Sergio, e poi Alfio Sciacca del Corriere della Sera, anche lui, cronista navigato. Ben trovato ai nostri microfoni. Grazie, ben trovato. Allora, Antonio, riusciamo per titoli intanto ad andare a far capire cosa c'è in questa inchiesta sostanzialmente? Ma guarda, prima di fare capire agli ascoltatori di cosa stiamo parlando, è necessario entrare nel sistema Sicilia. E' un sistema, non si può comprendere il valore di questa inchiesta, l'importanza di questa inchiesta della procura di Catania se non la contestualizziamo nel mondo che ogni giorno i siciliani vivono. E' un sistema siciliano che non necessariamente si avvale di comportamenti, il sistema che governa la Sicilia non necessariamente si avvale di comportamenti che sono decifrabili tenendo in mano il codice penale e il codice civile. Cioè, ci sono dei comportamenti che potranno non essere reato, potranno non costituire un'illegittimità, un'irregolarità dal punto di vista amministrativo, ma che sono la forza, il cuore pulsante che ha dato vita a questo nuovo asse che sta attualmente governando la Sicilia, che parte dal Movimento per l'Autonomia e si avvale della collaborazione del Partito Democratico. E' un sistema che si avvale soprattutto di un metodo. Il metodo non è determinato soltanto dalla gestione totale di rilascio di certificati medici, assunzioni in qualunque ente pubblico, concorsi. In Sicilia non ritengo che esistano concorsi nel vero senso del termine, ma è un sistema che si avvale soprattutto dell'attenzione da parte delle persone che sanno che non hanno alternativa a richiedere in ginocchio ciò che spetterebbe di diritto presso le segreterie politiche. Quindi è un sistema nel quale non esistono diritti, non esistono privilegi, non esistono doveri, esistono soltanto privilegi e siamo in pieno feudalessimo in Sicilia. Ecco, ora perdonami, saltiamo il trionforo dell'obbietà e andiamo adesso nei dettagli. Andiamo nei dettagli. Nei dettagli. Cosa c'è di concreto? Ovviamente, anzitutto, di quanto si compone questo faldone d'inchiesta? Guarda, l'informativa dei ROS originaria era oltre le 10.000 pagine, non 5.000 come si è detto. Ora siamo arrivati a raccogliere, la procura ha raccolto circa 80.000 pagine, ma soprattutto ci sono i rapporti tra la mafia e la politica degli ultimi 10 anni. Questi rapporti sono raccontati dai boss, dal capo di Cosa Nostra, di Catania, Vincenzo Aiello, ma anche da altri intercettati, come per esempio un esponente importante del Movimento per l'Autonomia che è un geologo, si chiama Giovanni Barbagallo, lui era l'anello di congiunzione, secondo quanto risulta dalle indagini, l'anello di congiunzione tra il mondo della mafia e il mondo della politica. In questo caso parliamo del Movimento per l'Autonomia di Raffaele Lombardo. Di cosa trattano i boss? I boss hanno l'obiettivo di essere punto di riferimento all'interno della realtà che si vive ogni giorno, quindi essere punto di riferimento per le imprese e testimoniano l'esistenza di un sistema che si salda al momento delle elezioni, quando il politico si avvantaggia dell'aiuto delle cosche, quando i boss diventano e restano punto di riferimento, quando il sistema diventa praticamente inespugnabile. Entriamo nei dettagli. Il momento è sempre quello delle elezioni, il momento importante in cui esisterebbe questo, secondo l'accusa, questo concorso esterno in associazione mafiosa. Innanzitutto il capo di Cosa Nostra, intercettato, dice agli affiliati non ve lo scordate, ci resi i soldi noci del pigno. Si parla di una estorsione a una grossa impresa commerciale. Poi abbiamo la notte prima di un importante appuntamento elettorale del 2004, Raffaele Lombardo si sarebbe recato dal boss Rosario di Dio durante la notte a chiedere dei voti. Il boss racconta che si mangiò otto sigarette, uno dei comportamenti tipici di Raffaele Lombardo. Poi abbiamo l'interessamento diretto, la scelta dei candidati diretta del boss Vincenzo Aiello all'interno delle liste del Movimento per l'Autonomia. In questo caso ci sono intercettazioni tra il geologo Santa Paoliano e autonomista Giovanni Barbagallo e Alfio Stiro, il cui genero viene candidato con l'approvazione del capo di Cosa Nostra, Vincenzo Aiello. Parliamo che al momento dell'elezione di Angelo Lombardo avviene un summit, un vero e proprio summit nella casa del punto di riferimento del clan e del Movimento per l'Autonomia che è Giovanni Barbagallo. A festeggiare ci sono auto di lusso, bevono vino rosè e c'è anche Alfio Stiro, referente del boss Salvatore Tuccio, detto Turi di Lova, condannato definitivamente per associazione mafiosa e c'è anche Angelo Lombardo, il fratello di Raffaele Lombardo, che era stato fresco di elezione. Secondo l'assunto accusatore e investigativo dei pubblici ministeri di Catania è anche un personaggio centrale in questa... Sì, consideriamo che lui è un personaggio che inizialmente si ipotizzava avesse una posizione diversa rispetto al fratello e lo stesso Raffaele Lombardo lo scaricava dicendo ciascuno è responsabile delle proprie azioni. Poi ultimamente invece le due posizioni di Angelo Lombardo e Raffaele Lombardo sono state equiparate nell'avviso di garanzia, tanto che i PM hanno fatto un unico capo che li riguarda entrambi. Ho capito, questi diciamo alcuni dei punti centrali, lo abbiamo detto all'inizio, questa è un'inchiesta abbastanza complessa, io chiederei a questo punto ad Alfio Sciacca, in questi anni ne abbiamo visti di processi per concorsi esterni in associazione mafiosa, con tutta la contraddizione anche giurisprudenziale che hanno prodotto diversi esiti non brillanti di cosiddetti processi eccellenti che hanno visto la continuità, facciamo l'esempio del bilancio non perfettamente positivo dei processi incardinati da Giancarlo Caselli a Palermo. Diversamente sono andate le cose invece sui filoni curati dal procuratore Grasso per quanto riguarda i processi che hanno riguardato Cuffaro, anche con scelte di filosofia requirente diverse, vedi appunto il favoreggio momento aggravato ex articolo 7 versus appunto il reato di concorsi esterni in associazione mafiosa. Allora a occhio e a naso anche del cronista questa è un'inchiesta che comunque non si ferma alle dichiarazioni spesso suggestive del pentito del caso. Ci sono indubbiamente delle tecniche investigative, intercettazioni, pedinamenti, fotografie, insomma tecniche tradizionali di investigazione che abbiamo già visto nel processo Cuffaro. Però ci sono delle differenze proprio nella morfologia dell'indagine dell'inchiesta perché il processo Cuffaro si muoveva tutto sommato se non all'interno di una triangolazione quantomeno di un quadrilatero ben definito che riguardava Cuffaro, il boss Brancaccio, il principe delle cliniche Aiello e le cosiddette talpe alla direzione di settuale antimafia. Qui siamo davanti a un processo con 56 credo indagati, quindi numeri da maxiprocesso e con più filoni e quadrilateri investigativi o temi processuali possibili che dir si voglia. Questo cosa suggerisce? Per cercare di fare un po' di ordine perché secondo me se poi si vanno a pescare singoli episodi probabilmente tutta la vicenda si sfilaccia. Questa inchiesta perché poi molti non riescono a cogliere il senso di quello che sta avvenendo perché non si capisce neanche la genesi. Questa inchiesta nasce da un'attività antimafia che fanno i ROS, cioè i ROS già tenevano sotto controllo il clan Santa Paola segnatamente in quel periodo retto da Enzo Aiello che era già stato oggetto di una precedente inchiesta in cui già quella volta erano emerse dei risvolti di tipo politico che però non avevano la corposità. Ci fu una richiesta di archiviazione che aveva riscritta da un GIP. Non avevano la corposità per giungere, anche in quel caso furono indagati altri politici. In questa seconda troncone di inchiesta che i ROS fanno sul clan Santa Paola intercettando con intercettazione ambientale saltano fuori dei nomi di politici e i nomi di politici saltano con una certa frequenza, non sono occasionali questi nomi che vengono fuori. A quel punto l'attività del ROS solamente in minima parte, questo bisogna dirlo, viene focalizzata sui politici perché non c'è una grandissima attività di indagine proprio finalizzata dai politici. Il resto è comunque un'inchiesta sul clan Santa Paola. Questo poi segna alcuni dei limiti che ha questa inchiesta, ma comunque emergono dei rilievi che sono di carattere penale anche sui politici. Successivamente alla consegna del rapporto di ROS alla procura di Catania, la procura fa un'attività di indagine non solo sui mafiosi ma puntando, focalizzando ancora di più su quei politici che vengono fuori in questa inchiesta. Alla fine, per essere chiara per dirlo subito, non viene fuori qualcosa di concreto che dimostra un rapporto di scambio tra mafiosi e politici, assegnatamente tra mafiosi e il Raffaele Lombardo e il fratello Angelo, mentre qualcosa di scambio avviene per gli altri indagati, mi riferisco per esempio paradossalmente anche a uno come Cristauto che poi il GIP ha respinto la richiesta di arresto perché lì c'è un rapporto dovuto ad esse per quanto riguarda la vicenda di Tenutella che è abbastanza specifico, oppure per Fagone. Per Lombardo, ed è questo che poi viene fuori nell'avviso e conclusione di indagini in maniera di chiaro, viene, io voglio citarla testualmente come scritto nell'avviso e conclusione di indagini, viene accusato Lombardo e il fratello Angelo di aver sollecitato direttamente o indirettamente i vertici dell'organizzazione mafiosa catanese denominata Cosa Nostra in quel periodo retta da Ierlo, a reperire voti per sé e il suo partito, in generando, e qua siamo a questo importante, in generando nell'organizzazione stessa il convincimento circa la disponibilità degli stessi Lombardo, Angelo e Raffaele ad secondare le esigenze del clan per quanto riguarda reperimento di appalti, gestione di servizi nel settore pubblico e tutto quello che resta. Come capite già nella formulazione del capo di accusa nell'avviso e conclusione di indagini si parla di qualcosa che già nel momento in cui questo è abbastanza sfuggente e sostanzialmente non c'è qualcosa che si tocca con mano ma c'è un'attività che avrebbe svolto l'organizzazione mafiosa a reperire voti per l'MPA e ci sono diversissime intercettazioni telefoniche in cui i pentiti, alcuni degli arrestati dicono che l'organizzazione era mobilitata per raccogliere voti per l'MPA e dall'altra parte ci sono molti questi personaggi e assegnantemente alcuni imprenditori che avrebbero ricevuto dei benefici che sono quantomeno sospetti, cioè nel senso per esempio di Basilotta che nel giro di pochi anni è diventato uno degli imprenditori più gettonati sulla piazza catanese, Basilotta col quale Rombardo non ha negato di avere delle amicizie personali, poi c'è questo personaggio di cerniera che è Giovanni Barbagallo, questo geologo stranissimo che è un tecnico ma poi alla fine è un tirapieti, è un militante dell'MPA che è l'interfaccia, questo Giovanni Barbagallo che è l'elemento più importante dell'inchiesta, mantiene rapporti proprio di organicità con Aiello e gli altri esponenti della Cosca e allo stesso tempo mantiene rapporti altrettanto organici con l'organizzazione MPA e segnatamente con Angelo Lombardo e spesso anche con Raffaio Lombardo. Allora qui sta tutta la sostanza e la difficoltà di questa inchiesta, cioè ci sono delle cose che apparentemente avvengono in fasi differenti, la scommessa della procura è di riuscire a dimostrare che l'organizzazione mafiosa ha tratto benefici perché poteva vantare questi rapporti con la politica e la politica ha tratto dei benefici in termini di consenso e di voti perché aveva l'appoggio della Cosca. Qui è tutta la sostanza dell'inchiesta, i singoli episodi sono sfuggenti perché non c'è in tutta l'inchiesta una sola intercettazione in cui salta fuori la voce di Raffaio Lombardo. Raffaio Lombardo non compare mai. Non c'è la pistola fumante. Ecco esattamente, non c'è la pistola fumante mentre un po' più come dire inguaiata è la posizione del fratello Angelo che aveva una serie di frequentazioni assolutamente discutibili. Io ritengo che invece in questa vicenda la cosa più importante sia stata la conferenza stampa che ha fatto Raffaio Lombardo successivamente alla pubblicazione delle notizie sul giornale. Cioè in quella conferenza stampa Raffaio Lombardo secondo me ha detto più cose di quante sono contenute nell'inchiesta. Cioè Raffaio Lombardo mostrando tra l'altro dei veri attributi perché questo io lo devo dire tra parentesi, da questo punto di vista è un po' un politico su Genesi. Volendo fare una pubblicità comparativa rispetto all'altimità. Allora, mentre i magistrati trovavano difficoltà a raccontare il rapporto con Basilotta, ha detto che Basilotta è un amico suo che spesso l'ha incontrato in campagna. Mentre i magistrati non sapevano come raccontare il rapporto con Aiello, lui ha detto che lo incontrava ma era circoscritto un rapporto di tipo politico. E poi c'è la vicenda, come dire, per certi versi, tra virgolette, bella dal punto di vista giornalistico, quindi dal punto di vista dei rapporti con Raffaele Bevilacqua. Raffaele Bevilacqua è un boss della zona di Enna. Raffaele Lombardo in conferenza della nostra stampa ammette di aver ricevuto a casa sua, a Catania, il boss Bevilacqua, ma dice che l'ho ricevuto semplicemente perché era venuto a chiedermi una cortesia per far trovare un posto di lavoro al figlio e io, di fronte, questa è bella come argomentazione, di fronte ad una persona che vuole sganciarsi dal percorso che ha fatto il padre, io, come dire, mi sono mostrato disponibile anche se poi il posto non è stato trovato. Insomma, un altro benefattore. Cosa singolare. Non viene il figlio di Bevilacqua a chiedere una cortesia per affrancarsi al padre, viene direttamente Bevilacqua a bossa e chiede la cortesia a Raffaele Lombardo. Però capite che da tutte queste cose emerge sicuramente... Ma che boss è un boss che va dal politico a sistemare il figlio? Ma ci sono altre intercettazioni in cui risulta, come dire, della interlocuzione tra Lombardo e alcuni esponenti del gruppo di Bevilacqua per reperire voti in quella zona. Consideriamo che Bevilacqua è la persona che ha inguagliato per molto meno l'onorevole Vradimiro Crisafulli. Cioè, Lombardo Crisafulli è stato bollato come amico dei mafiosi solamente per averlo incontrato in una circostanza. Allora, il discorso è questo. Sicuramente, e torniamo a quello che diceva Antonio all'inizio, sicuramente viene fuori un contesto di frequentazioni, di rapporti, di interlocuzioni, di vicinanze che probabilmente sarà difficile da dimostrare su un piano dibattimentale, ma che sicuramente svelano un contesto. Sul piano dibattimentale, se mi fai dire e chiudo, secondo me ci sono due o tre cose su cui i magistrati puntano e sono, come dire, lo scambio. Alcuni rapporti di scambio presunti, per esempio, quando l'organizzazione mafiosa dice di aver girato i soldi di una messa a posto, cioè i soldi di un pizzo, di averli girati per la campagna elettorale di Lombardo. Questo, per esempio, è una cosa concreta. Anche se poi lì Lombardo potrà sempre dire io non sapevo che l'organizzazione stava girando i soldi per la mia campagna elettorale. Ho anche i rapporti con Basilotta, che diventa il principe degli appalti pubblici a Catania. Sarà difficilissimo dimostrare che questo derivi da rapporti di amicizia con Lombardo. Il punto è che qua entriamo, nel cuore della domanda che facevi tu, cioè della difficoltà a configurare e a sostenere in dibattimento il reato di concorso esterno e associazione mafiosa. Perché la normativa prevede che basta un solo episodio perché si configuri il concorso esterno, ma anche quel singolo episodio è difficile da trovare e questo, per allargare il discorso, spiega alcune cautele che ha avuto la procura di Palermo, per esempio sulla vicenda Cuffaro. Sulla vicenda Cuffaro la procura di Palermo è andata alla contestazione del favoreggiamento con l'aggravante mafiosa e in dibattimento quell'accusa a retto, tranne poi trovarsi successivamente con la contestazione di concorso esterno e il procedimento non è andato avanti perché sostanzialmente si chiedeva di giudicare Cuffaro esattamente sugli stessi reati di prima. Però io ti dico che probabilmente in questa inchiesta non c'erano gli estremi per contestare a Lombardo il favoreggiamento con l'aggravante. Cioè qui o tu, alla luce di questo contesto che viene fuori, riesci a dimostrare che questo contesto è di contiguità tipica del concorso esterno, oppure il concorso oppure devi chiedere all'archiviazione perché non c'è un qualcosa di concreto che possa, cioè il favoreggiamento prevede qualcosa che si tocca, nel caso di Cuffaro c'era la vicenda Ierlo che dava questa qualcosa, quindi questa opzione è scegliere tra il favoreggiamento con l'aggravante o il concorso esterno, la procura di Palermo ce l'aveva e ha fatto una scelta. Io penso che sull'inchiesta di Catania la procura non aveva opzione o procedere per concorso esterno, oppure chiedere all'archiviazione. Allora, ci sono alcuni aspetti sulla scivolosità e impalpabilità che potrebbe presentare un possibile dibattimento perché ancora qui, attenzione, siamo, lo ricordiamo, alla notifica della venuta a chiusura delle indagini, rito molto formale, ma non siamo ancora a una richiesta di invia a giudizio. Sergio, per fare un po' di chiarezza, perché in questi giorni se ne sono sentite tutti i colori, comprese anche le dichiarazioni un po' bizzarre del procuratore facente funzione, che ha detto sì, è vero che un avviso e conclusione e indagini non comporta automaticamente la richiesta di invia a giudizio. Questo lo dice la procedura. Il problema è che quando tu hai imbastito un'inchiesta di queste dimensioni, hai fatto un capo di imputazione che di fatto sembra una richiesta di misura cautelare, perché se tu vuoi andare a vedere l'ordinanza del novembre... E su questo c'è la vicenda della famosa prima pagina di Repubblica che aveva annunciato l'imminente arresto di Lombardo, l'IFU, una parte dei PM l'ha chiesto. Allora, quando c'è un'inchiesta di queste dimensioni, un pubblico ministero deve trovare qualcuno che gli porti un tale elemento di riscontro che annulli, che faccia cadere il suo castello di accuse per arrivare alla richiesta di archiviazione. Quindi, tecnicamente, l'avviso e conclusione e indagini in questo caso si profila semplicemente come una comunicazione all'indagato che io sto procedendo nei tuoi confronti e che sto andando alla richiesta di rinvio a giudizio tranne che tu mi dimostri che su 8.000 pagine mi pare veramente improbabile che possa essere ribaltata la situazione. La cosa invece che potrebbe succedere, e non è impossibile che avvenga, è la spaccatura all'interno della procura di Catania, per cui, come di fatto c'è, chiamiamolo una divergenza di opinione tra vertici della procura, tranne che a quel punto i vertici della procura potrebbero non vistare la richiesta di rinvio a giudizio dei sostituti e si potrebbe arrivare ad una invocazione dell'inchiesta da parte del procuratore. Insomma, si potrebbe avere uno scenario anche lì singolare. Però, voglio dire, non ci sono gli elementi perché si giunga ad un rimbaltamento delle convinzioni dei pubblici misteri che stanno indagando. Questo voglio dire. Chiaro, è stato abbastanza esaustivo Alfio Sciacca. Antonio Condorelli. Il ruolo dell'informazione in questa vicenda è anche importante, perché quando i colleghi di Repubblica pubblicano la notizia del possibile arresto di Raffaele Lombardo, non mentono. Noi questa cosa l'abbiamo scoperta. Beh, attenzione, lì in realtà le cose sono andate così. C'è stata una parte della procura che era intenzionata a chiedere l'arresto di Lombardo. Forse anche inutile, direi, perché dopo mesi che sai che si è indagato lì su posti di reiterazione e inquinamento delle prove, se ne erano forse già andati belli e fumati. E quindi lo scontro, forse il titolo del giornale doveva essere alcuni PM chiedono l'arresto di Lombardo e non darlo. No, sai cosa accade? Perché poi così non è accaduto. Però voglio dire, non voglio, tra l'altro sono dei carissimi amici, oltre ad essere dei colleghi di Repubblica, però voglio dire, è buona regola che non si dà per fatta una cosa che non è ancora fatta. Ah, appunto, vabbè. Cioè nel senso, con le notifiche. Certo, certo. Lì poi si sconfina nell'olistico spinto e avanzato. Adesso noi vediamo che nella richiesta che è stata fatta nel mese di aprile, nel preambolo ci sono i nomi di Raffaele Lombardo e di Angelo Lombardo. Poi se vai a coloro che dovrebbero essere arrestati, non ci sono i loro nomi, non ci sono i loro capi di imputazione. Nel corpo della richiesta di custodia cautelare in carcere per gli altri indagati c'è invece tutto il capitolo che riguarda Raffaele e Angelo Lombardo. Idem nella seconda richiesta. Cioè ci sono delle cose un po' particolari che sono accadute. Il ruolo dell'informazione qual è? Che attualmente ci sono giornalisti sotto inchiesta ai quali io esprimo la mia totale solidarietà. Sono sotto inchiesta per fuga di notizie. C'è Sciacca qui accanto che mima se stesso e quindi dice... Ci sono i colleghi di Repubblica. Io stesso sono tra gli indagati per certo di questa vicenda iscritto nello stesso fascicolo. Io ai tempi quando dirigevo il giornale Sud subì una perquisizione nella mia ex redazione e quindi c'è stata una forte tensione. La verità è che da questo processo dipende l'assettamento, l'assetto politico nazionale perché la Sicilia è stato sempre punto di riferimento. Quindi c'è da una parte l'accertamento della verità che i magistrati stanno facendo con la massima correttezza in tutti i sensi. Dall'altra parte c'è una situazione di forte tensione politica sia in Sicilia sia in Italia che guarda caso passa l'assetto nazionale dalle decisioni della procura di Catania. E quindi è normale che ci sia, ci possa essere anche Lombardo che parli molto spesso di tenti di spostare l'attenzione da quelli che sono i problemi processuali, procedurali di questo processo per concorsi e associazione mafiosa di questo procedimento perché ancora non siamo entrati nel vivo del processo. Dall'altra invece tutti gli aspetti politici che ne conseguono molto spesso imbarazzanti. Per esempio il ruolo dei magistrati antimafia che sono stati reclutati da Lombardo come assessori. I boss dicono sta cercando di pararsi il culo, sono intercettazioni. domani è festa dicono mentre affermano questa cosa sui due magistrati della DDA. Domani è festa perché incontriamo Raffaele. Sì incontriamo Raffaele domani è festa ma ora è inavvicinabile però domani lo incontriamo ed è festa. Si è messo questi due magistrati in giunta per pararsi il colpo. Ecco ci sono tanti lati oscuri e dobbiamo dire che politicamente il Partito Democratico non ha dimostrato di essere alternativo al sistema che è lo stesso di Dufaro perché ci sono dei fatti emblematici che non possiamo sottacere. Anna Finocchiaro nel momento centrale dell'accordo con il Partito Democratico era inaugurare l'appalto del PTA di Giarre che era stato affidato al suo marito senza una pubblica gara. Insieme a lei c'era l'ex ministro Livia Turco che ritengo fosse all'oscuro di questi fatti c'era l'assessore Massimo Russo e il giorno dopo lei a Ballarò diceva, Anna Finocchiaro sosteneva che Raffaele Lombardo non era indagato e quindi ci sono tante cose che hanno alimentato la tensione e anche degli imbarazzi forti. Gli ultimi sondaggi danno il Partito Democratico in picchiata in Sicilia cresce Sinistra Ecologia e Libertà, cresce l'Italia dei Valori. Una parte degli elettori del PD si sono detti pronti addirittura a votare l'MPA quindi c'è un disorientamento. Tutto questo cosa produce? Produce tensione, produce instabilità nella Sicilia. Non spetta a me fare una critica politica però da giornalista non posso non rilevare che si sta giocando in Sicilia con la disattenzione di gran parte della stampa nazionale una partita che gioca, che è determinante per gli equilibri politici nazionali. Tutto questo passa purtroppo anche dal ruolo centrale del PD passa purtroppo da una valutazione che è sostanziale dell'idoneità di un sistema che è limitrofo alla mafia, definiamolo così perché non spetta a noi, non siamo pubblici in ministeri, non spetta a noi dire se è reato o non è reato. Però lo stesso Raffaele Lombardo quando dice se mi avesse dato 100 voti, a me ne servivano 1000, lui poteva portare il boss, poteva portare 100 voti, non era il caso di andargli a chiedere. Poi dice sì forse ci sono andato. Sì il mio parente stretto del mio responsabile di Castel di Utica è il boss e il mafioso Basilotta che c'è di male, lui è venuto a trovarmi qualche volta. Raffaele bevi l'acqua che c'è di male se lo incontro e stringo la mano e gli trovo un posto di lavoro al figlio. Tutto questo non può essere la risposta idonea, non è stato seguito da una risposta idonea da parte del PD che la gente comunque si attendeva perché fino a prova contrario quando, come dice giustamente Alfio Sciacca, Raffaele Lombardo raccontava in conferenza stampa i suoi rapporti che lui ha detto essere politici con questi boss mafiosi ad applaudire c'era il partito democratico siciliano. C'erano gli esponenti di primo piano del partito democratico siciliano, c'era il magistrato Massimo Russo, c'era il magistrato assessore Caterina. Che vuol dire ad applaudire? Applaudire vuol dire che nella conferenza stampa non è stata fatta in una stanza blindata alla quale erano presenti solo giornalisti. Nella conferenza stampa c'erano tutti i vertici a Palazzo d'Orleano, ci fu anche una diretta televisiva. Io stesso mi ricordo, devo dire è stato per me un momento molto toccante quando ho inseguito l'assessore Caterina Chinnici che porta un cognome importante, l'ho inseguita per cercare di capire, per cercare di chiedere a lei una risposta, cioè cosa vuol dire questo? E allora in Sicilia di cosa c'è bisogno, non spetta a me dirlo, però di sicuro se noi vogliamo parlare di questo governo come un governo dell'antimafia non possiamo parlarne. L'asvolta dell'antimafia non c'è stata, il sistema è sempre lo stesso perché alla fine parliamo sempre solo di posti di governo, di posti di sottogoverno, di un metodo che comunque è clientelare, che poi può essere legale o legalizzato secondo il modo di giudicare, secondo il sistema processuale penale che c'è vigente in Italia, anzi devo dire che questo sistema processuale penale favorisce l'esistenza e il consolidamento di questo sistema perché l'ex ragioniere del comune di Catania, Francesco Bruno, che aveva affidato a se stesso un appalto da 700 mila euro a una società, ora il reato è stato prescritto, quindi per la legge lui è pulito, però i soldi l'ha incassati. Qui con Norelli tocca un punto importante che è diventato anche un vezzo culturale o controculturale, se possiamo dire, dei pubblici ministeri delle cosiddette sedi più esposte, perché mi pare di capire che ultimamente tutto è mafia oppure niente. La mente del cronista viene all'episodio più clamoroso che forse è stato quello meno valutato dalle cronache di allora, del processo Cuffaro. Provate a immaginare se uno come Galan o come Zaia si fosse incontrato nel retro bottega di Mogliano Veneto, di un negozio, per concordare col principe delle cliniche del caso, il raddoppio se non la quadruplicazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie. Proviamo a pensare cosa fosse scattato in termini di reazione e di indignazione in una regione come il Veneto. Il rischio è che in Sicilia ci siano degli atteggiamenti non necessariamente di mafia o comunque riconducibili alla configurazione dell'associazione mafiosa, ma che ci siano comunque degli atteggiamenti mafiosi, non necessariamente di mafia, nella pubblica amministrazione, ai vari strati politici, amministrativi e non. Che ne pensa il Susciac? Sì, purtroppo il malcostume troppo spesso non configura il reato. Sempre per restare a Lombardo c'è un'inchiesta che è stata aperta su Lombardo, perché lui non è oggetto solamente di questa inchiesta ma anche di altre, su una vicenda che io ritengo emblematica, che è quella del cosiddetto libro mastro dei favori. Secondo me è una storia che non ha uguali in Italia, perché tutti sappiamo che i politici hanno i database con tutte le clientele che gestiscono, ma mai era capitato di mettere le mani pubblicamente su un database. Nel caso di Lombardo è avvenuto per un bizzarro meccanismo che ancora resta misterioso, c'è chi dice che sia stata una carognata rifilata agli ad arte, c'è chi dice che è stato un errore di una segretaria. In sostanza, forse non tutti lo sanno, ad un certo punto finì su un file condiviso di Emule e finì proprio il database delle clientele di Lombardo con tutte le richieste di posti di lavoro, io chiedo questo, con un sistema anche scientifico che ha fatto appunto parlare di Lombardo come l'esponente del cuffarismo scientifico, perché per ogni clientes c'era la richiesta, c'era chi si occupava del padrinaggio, cioè chi sollecitava questo favore e chi doveva occuparsi di risolvere il favore. Quindi capite che è un sistema straordinario. E con nomi e cognomi, con numeri di telefono, con indicazione di clientele da soddisfare, che è facilmente verificabile. Cioè, se io ho chiesto a Raffaele Lombardo di diventare primario a Siracusa, non è difficile vedere se poi sono diventato primario o meno. Bene, queste inchieste sulla quale la procura di Catania ha indagato, si sta chiudendo con un'archiviazione. Magnifico, formidabile. Perché non configura alcuna fattispecie di reato. Eccoci, o tutto è mafia oppure niente, allora mi hai ragione. E siamo a quello che dicevi tu, o tutto è mafia o niente reato. Da questo punto di vista subiamo anche le conseguenze di vivere in una terra talmente a tinte pesanti, a tinte forti, per cui non riusciamo più a vedere le mezze misure e quelle che sono, come dire, le piccole illegalità, che qua in caso specifico non sono piccole illegalità. Nel caso di Lombardo, però, io mi ritengo uno di quelli che l'ha seguito sin dal primo momento nell'evoluzione, anche nella prima stagione, quando lui subì il primo arresto, insomma io da anni seguo Lombardo. Io devo dire che c'è una differenza tra il primo Lombardo e il Lombardo governatore. E probabilmente, se la vogliamo dire tutta, Lombardo finisce oltremodo a subire quello che sta avvenendo proprio perché c'è il secondo Lombardo. Cioè lui ad un certo punto, dopo, per una serie di motivi sui quali bisogna fare un'altra trasmissione, fa una scelta di alzare l'asticella della questione morale con i magistrati in giunta, con alcune scelte anche che fa di sotto governo, sicuramente alza l'asticella della moralità del proprio impegno politico. E ci sono delle scelte nette. Alcuni dirigenti della regione sono, come dire, assolutamente al di sopra di ogni sospetto, come sono al di sopra di ogni sospetto anche la chinnice russo. Il problema qual è? Che a un certo punto questo secondo Lombardo finisce per entrare in cortocircuito con se stesso prima maniera. Il Lombardo che noi abbiamo visto prima che diventasse presidente della regione è un Lombardo che ha più disinvoltura nei rapporti e nella ricerca dei consensi rispetto a quello che noi vediamo ora da governatore. Però quel passato non puoi dimenticartelo. E quello che sta emergendo in queste inchieste e nelle altre che ci sono in corso non è relativo al Lombardo governatore, ma è al Lombardo di prima. Cioè in sostanza gli stanno tornando indietro con gli interessi tutti alcuni suoi comportamenti, sin anche quello che lui ha fatto da amministratore del comune di Catania. Cioè tutta l'inchiesta sulle promozioni facili al comune di Catania in cui tutti divennero caporali, ottennero l'aumento di qualifica. Quella è una cosa partorita da Raffaele Lombardo. Cioè c'è stato un periodo in cui la ricerca a tutti i costi del consenso non vogliamo dire che lo ha portato a stringere le mani dei mafiosi, ma comunque l'ha portato una disinvoltura nella gestione del potere che è al limite del reato. Probabilmente anche sulla storia di Catania dovremmo anche riscrivere le responsabilità di Scapagnini rispetto a quelle che ha avuto Lombardo, perché Scapagnini ha finito per fare il capo espogliatorio del disastro di Catania. C'è anche la storia del dissesto, probabilmente è una storia in cui Raffaele Lombardo ha delle responsabilità. Il punto è che lui... Non a caso il punto massimo, scusa se ti interrompo, del dissesto è intorno al 2005 quando fa Capolino il franchising dell'MPA sparsi in mille liste. Allora il problema è questo, Raffaele Lombardo ha ragione quando dice, io non ho preoccupazione a dirlo, ha ragione quando dice che il suo governo ha fatto delle azioni di contrasto serie sui termovolizzatori, sul problema della sanità. È vero, è vero, non c'è alcuna preoccupazione a dirlo. Il punto è che Lombardo è lo stesso che faceva queste cose a Catania, cioè Lombardo è lo stesso che gestiva il libro dei favori e io dico di più, ma come diventerebbe Lombardo se domani ci fosse un'elezione? Perché è facile fare i proclami di rigore nella gestione della cosa pubblica quando si è lontani dall'elezione, ma Lombardo quando è sotto elezione diventa da un certo punto di vista un indemoniato nella raccolta dei consensi, con questo senza fare alcun accostamento con il nome dell'inchiesta che si chiama Iblis. Voglio dire, questa è la sostanza dell'uomo e la contraddizione che si vive, tanto che in alcuni ambienti Lombardo gode di grandi aperture di credito, suscita una fascinazione l'uomo, perché comunque è un uomo nuovo sulla scena politica, comunque è stato abilissimo anche nello scomporre il quadro politico, nel mettersi al centro della scena, cioè l'uomo ha delle qualità non indifferenti, il punto è che il suo passato lo rincorre e spesso lo supera e questo è quello che stiamo vivendo. C'è una cronologia dettata, lo chiedo ad Antonio Condorelli, una cronologia dettata ben precisa sul primo Lombardo e il dopo Lombardo da parte di Alfio Sciacca. Questa cronologia la stiamo scoprendo adesso, vogliamo fare finta di non aver assistito a quello che accadeva, noi non dobbiamo dimenticare che, faccio qualche esempio, il comune di Catania e la provincia regionale di Catania avevano lo stesso direttore del personale, che è stato ora arrestato, era un uomo di fiducia di Raffaello Lombardo, è stato arrestato nell'inchiesta sui servizi sociali. L'ex assessore di Lombardo, poi diventato consulente alla regione, Antonino Mendolia, avrebbe fatto un'estorsione con alcuni picciotti del clan Santa Paola. Non è che se si vuole dire, come ha detto Anna Finocchiaro, l'unico suo intervento sulla questione fatto il 4 novembre del 2010, pochi giorni prima di inaugurare l'appalto del marito, se Raffaele Lombardo sarà colpevole, allora usciremo dal governo. Se spostare il parametro di valutazione esclusivamente a quello che partorisce il sistema giudiziario vigente in Italia, vuol dire deresponsabilizzare la gente, i cittadini e fare finta che le cose possano non esistere, perché potrà anche essere assolto, però questi comportamenti sono sotto gli occhi di tutti. Il sistema vigente in Sicilia è lo stesso e se tu vuoi il problema siciliano è questo, è questo che devono capire gli ascoltatori di Radio Radicale, il messaggio che secondo me è importante è proprio questo, cioè in Sicilia i diritti non esistono, se tu vuoi qualunque cosa deve passare dalle segreterie dei politici. Se non si capisce qual è il problema, il cuffarismo e il lombardismo, come diceva Anna Finocchiaro quando era candidata contro Raffaele Lombardo, sono la stessa cosa. Il problema è che in questo sistema c'è entrato con tutto lo scecco, come diciamo a Catania, c'è entrato il Partito Democratico e quindi ci sono entrati esponenti importanti dell'antimato. Lo scecco lo diciamo agli ascoltatori in dialetto è l'asino, abbiamo ascoltatori anche a Pipiteno. Esatto, quindi il problema è proprio culturale, anzi subculturale direi. Quindi se non cambiano, se l'informazione comunque devo dire che è molto disattenta rispetto a queste tematiche, perché vedete voi a livello nazionale chi sa realmente quali sono gli oggetti dell'inchiesta Iblis, grazie a voi, grazie a Radio Radicale, forse qualcuno riuscirà a capire di cosa stiamo parlando, cioè nel momento delle elezioni i boss avrebbero finanziato la campagna elettorale con i proventi del pizzo, delle estorsioni. Raffaele Lombardo sarebbe andato e lui stesso lo ha confermato da un sorvegliato speciale a chiedere voti. L'elezione di Angelo Lombardo... Stiamo parlando sempre degli assunti comunque investigativi. Investigativi, no, però ci sono delle cose certe, c'è il festeggiamento, il summit che avviene a Contrada Margherito per l'elezione di Angelo Lombardo è un dato certo, cioè lì ci sono noti pregiudicati che festeggiano le elezioni. Raffaele Lombardo ha detto che non è stato presente per un contrattempo, cioè brindano col vino rosè, ecco è questa l'immagine triste, se vogliamo, giornalisticamente di questo sistema che comunque governa, un sistema che vede schierati anche paladini pseudo o per chi ci crede dell'antimafia, è un sistema che è diventato ormai una zona grigia perché i punti di riferimento la gente li ha persi, io non posso riuscire a capire come una persona che si ritiene essere paladino dell'antimafia governa con una persona che è indagata per concorso di un'associazione mafiosa e che ha confermato dei rapporti politici col boss, cioè stringere la mano al boss, anche se tu non dai nulla in cambio, può sembrare una sciocchezza ma è il momento fondante. Potresti anche sapere, questa è una linea difensiva, che quello non è un boss. Sì, sì, tu potresti sapere anche quello che... Sì, però quando vai da un sorvegliato speciale, non puoi non sapere, se noi leggiamo adesso in diretta la fedina penale di Rosario di Dio o di Raffaele Bevilacqua, che già nel 2003 era un uomo blasonato, non puoi fingere di non saperlo, il problema è che questo comportamento può non costituire reato, ma rappresenta il manifesto politico del sistema che poi va a governare, perché se noi vediamo gli atti, quando il capo di Cosa Nostra tenta di infiltrarsi nel settore delle energie fotovoltaiche, tramite il suo fido uomo militante di ferro del Movimento per l'Autonomia, Giovanni Barbagallo, fanno sempre e solo esclusivamente a Raffaele Lombardo, perché loro ritengono che per sbloccare alcune pratiche nel settore del fotovoltaico, delle energie alternative, bisogna fare riferimento a Raffaele, stessa cosa avviene con le intercettazioni sulla Safab, su alcune opere pubbliche importanti in Sicilia, il loro riferimento era a uomini importanti e donne importanti del Movimento per l'Autonomia. Quando Di Gatti dice all'improvviso abbiamo avuto l'ordine da parte della cupola siciliana, da Bernardo Provenzano, di votare MPA, descrive una cosa isolata, lui dice che prima la mafia voleva che noi votavamo, l'ordine era di votare per Forza Italia e per Cuffaro, davamo 100 euro per ogni voto, poi dice che da un certo punto, un anno e mezzo dopo l'arresto del deputato, lo giudice, quindi siamo alla vigilia delle elezioni del 2006, le elezioni regionali, l'ordine è stato votare Movimento per l'Autonomia di Raffaele Lombardo. Potrà non essere riscontrato penalmente, però noi giornalisti non possiamo astenerci dal dovere comunque di comunicare queste cose, poi la gente reagisce in qualunque modo, però il sistema di leggi vigenti in Sicilia, ribadisco, è quello che viene determinato ogni giorno dalla scelta delle persone, cioè quando tu vai a chiedere il certificato medico alla segreteria elettorale, la legge vigente non è quella che è scritta sulla carta, ma è quella che tu rappresenti con le tue scelte e quindi alla fine chi è che vince? Vince la segreteria elettorale, sia del Partito Democratico che dell'EMERCIA. Ciacca su questi punti, voleva dire qualcosa? No, no, io volevo... Anche beneficio di chi non è siciliano e quindi queste cose li sente anche con un po' di sconcerto, perché li sente colpo di sconcerto, perché non è passato nemmeno qualche mese dall'arresto di Cuffaro con la conferma in Cassazione, ora ci risiamo un altro presidente della Giorgione che viene accusato di mafia, cioè sembra una sorta di dannazione eterna di questa regione non riuscirsi a affrancare da questo tipo di problema. Ora io non so come finirà la vicenda giudiziaria perché con molta serenità dico che obiettivamente è una vicenda giudiziaria complessa e come dicevi anche tu non c'è la pistola fumante e poi perché, viva Dio, dobbiamo essere seriamente garantisti al di là di tutto e come dire siamo assoluti... Garantisti sia per l'imputato che per l'accusa, nel senso che uno auspica che il pubblico ministero porti sempre delle prove... No, no, ma poi in genere il principio nessuno tocchi caglino, come dire, è un principio che deve ispirare il nostro modo di operare anche dei giornalisti. Detto questo, c'è sembra una maledizione. Allora io voglio ribaltare un po' il ragionamento e dire che se questa è una maledizione probabilmente la colpa non è solamente del ceto politico, anzi ho la sensazione... Ho la sensazione, non voglio dare una chiave di lettura che può sembrare bizzarra ma vorrei che mi si capisse cosa voglio dire, cioè alla fine il ceto politico è il prodotto di un modo di concepire il rapporto con la politica, cioè in Sicilia, ahimè, per tutta una serie di condizioni, di bisogno, di fame atavica, di mancanza di lavoro ma se vuoi anche di mentalità perché non è solamente questione di bisogno. la gente al politico chiede lo scambio, chiede un rapporto che non è di buona politica ma è di tornaconto e di clientela e alla fine in questo contesto ha la meglio chi offre queste cose sul mercato del consenso elettorale, cioè chi è disposto a dare queste cose qua. e verosimilmente quando si è disposti a dare queste cose qua in una terra in cui c'è la mafia si corre il rischio di arrivare anche lì ad interloquire con ambienti mafiosi che in città come Catania, come Palermo, come Gela, come Agrigento controllano pacchetti di voti in alcuni quartieri quindi riescono a spostare. Allora cosa intendo dire? Non dico che Cuffaro e Lombardo siano delle vittime del sistema, assolutamente. Voglio però dire che o si cambia radicalmente, e lo si cambia in ognuno di noi siciliani, questo rapporto con la politica, o si torna a quello che una volta era un'espressione che si usava e ora non si usa più perché è passata di moda, alla qualità del consenso oppure noi non ne usciremo mai da questo punto di vista. Perché oggi, io sfido oggi, 2011, e 2011, se noi candidiamo per il governo di una città, di un quartiere, un candidato che offre buona politica e un candidato che offre clientele, il candidato che offre buona politica soccomberà sempre e quindi non è un problema del candidato, è un problema dell'elettorato anche ed è un problema delle condizioni di bisogno che c'è in questa terra. Quindi questa esperienza di Lombardo, l'esperienza di Cuffaro, ci deve far comprendere il livello di arretratezza in cui è pombata questa terra. Per cui se non si passa attraverso un cambiamento radicale, noi ci troveremo con un prossimo governatore che avrà gli stessi problemi. Insomma, non vincerebbe nemmeno Gesù Cristo se fosse capolista. Noi siamo purtroppo in una condizione di... Torniamo al tema dell'irredimibilità. Ahimè, non voglio arrivare all'irredimibilità, però qualcosa di simile c'è. Gli abitanti della Sicilia che fa la sua parte. E anche da questo punto di vista io ho un'altra preoccupazione e non la butto lì sul piano tifare per questo oppure far morleggiare, ma nell'atteggiamento che c'è del PD siciliano, io la preoccupazione che vedo è che c'è una fascinazione per questa facilità della raccolta del consenso. Cioè, in qualche modo, come dire, c'è una massa indistinta del ceto politico che a destra, centro e sinistra si muove nello stesso modo, perché si è capito che la buona politica non paga in termini di consensi. E questo è il vero disastro che vive questa terra, perché invertire questo disastro non è né un'operazione semplice né un'operazione breve e comporta delle scommesse, comporta dei rischi che debbano essere anche gestiti dai partiti a livello centrale, che spesso non si ha la volontà di giocarle questo tipo di scommesse. So che è un discorso molto, come dire, pessimista e che non fa bene via d'uscita, però io ritengo che sia questo lo stato dell'arte in Sicilia. E questa è la lezione che ci viene dall'esperienza Cuffaro e in parte, al di là di come finirà... Ma anche l'esperienza catanese, dal momento in cui i catanesi hanno avuto l'abilità, forse non ci sono precedenti, di riconquistarsi per una seconda, se non con una terza volta attraverso un altelego, il responsabile, o comunque il ceto politico, responsabile del fatto che Catania sia diventata la città più indebitata dell'Europa. Cioè Lombardo, Lombardo, permettetemi di spezzare una langia fuori. Lombardo dice ora, quando tu ci parli, sì, probabilmente qualche mano sbagliata l'avrò stretta, ora non lo rifarei più. Allora, il punto è questo, che si arriva troppo tardi ad assumere questa consapevolezza. Cioè, volendo credere nella buona fede di Lombardo, ma si arriva tardi a questo tipo di intransigenza nella raccolta dei consensi. Ma lì poi, perché poi in fondo si conta sempre su una citazione in dialetto che è il capocioppo, no? Il capocioppo che significa tradotto che purtroppo, lo sapete, è così. Quindi il divario è tra chi si oppone a questa filosofia e chi no. Sì, io direi di chiudere qui, perché poi gli argomenti da evadere sarebbero tanti, magari poi avremo modo di tornarci. Però a questo punto, visto che siamo partiti anche da un contesto politico che riguarda il PD, lo abbiamo detto all'inizio, il segretario nazionale Bersani che adesso dice sulla Sicilia che bisogna riconsiderare la questione del governo Lombardo, certo che il bilancio del PD, alla luce delle sue partecipazioni nelle varie regioni del Mezzogiorno, hanno peraltro tenuto ultimamente gli stati generali del Meridione a Bari. Se uno comincia a fare un bilancio, insomma, vabbè, lasciamo perdere la Basilicata, pensiamo all'inchiesta pugliese sulla sanità, pensiamo sulla questione anche Sarda, dove Renato Solo venne letteralmente lasciato un po' solo anche. Pensiamo alla questione Calabra, dove c'è stata un'ostinazione a candidare lo iero e hanno lasciato da soli i pannelli di pietra a sostenere la persona come l'imprenditore Calipo. Pensiamo alla questione napoletana, abbiamo visto le ultime vicende delle primarie di Napoli e la cosa che veramente fa un po' senso, ma tu, segretario nazionale del PD, avevi bisogno di Saviano per commissariano Napoli e ora avevi bisogno del documento della procura di Catania per riconsiderare la tua partecipazione col governo Cuffano, anzi col sistema, scusate, col governo Lombardo? No, su questo è giusta la tua osservazione. Cioè, ma un po' di buonsenso, Uber Halles a monte? No, su questo hai ragione la tua osservazione, c'è da dire che però altrimenti sembrano pazzi, no? No, perché poi, scusami se ti rompo, lì non è che puoi continuare a dire che c'è l'autonomia del partito. No, ma in realtà la spiegazione c'è per questa schizofrenia che ha avuto il PD, cioè non la condivido ma la spiegazione l'hanno data. Il punto è che il PD si è reso conto assolutamente di non avere chance nello scenario politico siciliano, cioè ha delle percentuali di consensi in Sicilia talmente ridicole che pensa di non poter... Però attenzione, qui ti fermo, perché sai benissimo, c'è una legge elettorale... Non sto facendo il mio discorso. C'è una legge elettorale regionale che consente a chi ha percentuali ridicole di avere un premio di minoranza che ti consente di avere un significativo gruppo parlamentare. E tant'è vero che il PD ne ha goduto perché è attualmente il gruppo più numeroso all'interno dell'Ars. Voglio dire, ci sono state due motivazioni sostanzialmente che hanno indotto il PD a prendere questa data. Qui sto facendo cronaca, non sto facendo di valutazione. Una era che in qualche modo se si andava ad elezioni comunque non avrebbe più raccolto quel numero di seggi che è attualmente a disposizione. Perché comunque lo scenario sarà frammentato e non raccoglierebbe quei consensi. Ma c'era una seconda strategia che aveva, condivisibile o meno. Cioè il PD ha ritenuto di incunearsi nella frattura interna al centrodestra cercando di sfruttare quest'asse con Lombardo per disarticolare il centrodestra non solo in Sicilia. E in parte, io sono stato molto critico, però devo dire che obiettivamente in una certa fase vedi quello che è successo col FLEA a livello nazionale questo tipo di percorso stava dando i risultati perché se quello che è successo con Fini fosse andato diversamente e i numeri fossero tornati probabilmente racconteremmo qui un'altra storia. Cioè se la spallata Berlusconi fosse andata in porto racconteremmo un'altra storia. Quindi questa è la strategia del PD. Io da questo punto, se vuoi sapere, la mia opinione non la condivido. Non la condivido perché comunque tu non... Cioè va bene che puoi fare i tatticismi ma non puoi avere fatto la campagna elettorale contro Lombardo che è l'esempio del feudalesimo, del clientelismo in Sicilia e poi allearci. Quindi insomma ci vuole un minimo di coerenza e poi soprattutto non la condivido perché chi fa questo tipo di ragione mostra di non conoscere Raffaele Lombardo. Raffaele Lombardo ha una grande capacità quello di riuscire a mangiarsi gli altri e crescere lui. Quindi da questo punto di vista l'idea che il PD potesse pensare che questa cosa poteva produrre dei risultati a lungo termine era assolutamente... assolutamente come dire che non stava con i piedi per terra. Ma ora il PD sta vivendo un'altra angoscia. Di fronte alla prospettiva giudiziaria il PD non vuole arrivare in ritardo rispetto alle decisioni dei magistrati. Cioè per un BT che ha fatto della lotta alla mafia al suo cavallo di battaglia non vuole che sia la magistratura a dirgli Lombardo è improponibile come alleato perché io lo rinvio a giudizio. E quindi ha tenuto in piedi questa finzione fino a quando non è arrivato l'avviso di conclusione e indagini. Ora di fronte alla prospettiva non tanto del rinvio a giudizio ma della semplice richiesta di rinvio a giudizio il PD andrebbe al rimorchio delle decisioni della magistratura e quindi Bersani vuole anticipare questo momento e vuole uscire dall'accordo con Raffaele Lombardo un minuto prima che la magistratura prenda le proprie decisioni. Insomma sono in uno stato confusionale rispetto ad una situazione che se mi consentite era anche prevedibile che andasse a finire così. Cioè e ti dirò di più anche immaginando che non andava a finire così cioè con la conclusione dell'indagine con la richiesta di impia a giudizio era discutibile l'atteggiamento del PD. Cioè ma perché se sul Lombardo ci fosse stata una richiesta di archiviazione quelle cose che sono contenute nelle carte per te non sono moralmente discutibili perché possono non configurare reato di tipo penale ma comunque una valutazione politica la meritano. Cioè un politico che ti dice che io incontro a casa bevi l'acqua comunque una valutazione politica la merita anche se non è reato. Ecco voglio dire il PD e stiamo al discorso che dicevamo prima cioè c'è questa fascinazione delle scorciatoie per arrivare al potere c'è stata una fascinazione da una parte delle scorciatoie poi c'è stata una fascinazione da una parte diciamo così dei salotti della pansella della sinistra che è magari suggestionati anche da questa da quest'abito legalitario con la figlia di Rocco Chinnici con l'ex PM antimafia e via discorrendo che ha sostenuto questa cosa anche in virtù di diciamo schieramenti politici alternativi il famoso laboratorio Sicilia che poi tale per me non è mai stato perché se il laboratorio è stato è stato una pasticcedia io direi l'ultima parola al buon Condorelli che non ha parlato molto e poi chiudiamo questa trasmissione. Per chiudere voglio fare una precisazione anche per gli ascoltatori cioè in realtà questo accordo con Raffaele Lombardo è avvenuto grazie a un colpo di mano di una parte del Partito Democratico che fa riferimento a Cracolici e al senatore Lumia considerate gli ascoltatori devono sapere perché questa cosa non è stato possibile diffonderla a livello nazionale io l'ho scritto sul Fatto Quotidiano ma quando un circolo chiedeva il referendum sul sostegno a Raffaele Lombardo noi abbiamo avuto un esempio eclatante in provincia di Catania a Caltagirone è stato addirittura commissariato dai vertici del Partito Democratico considerate che stiamo parlando del principale centro della provincia di Catania che è Caltagirone governato ormai da vent'anni dal centro-sinistra e lì Raffaele Lombardo aveva candidato contro un validissimo sindaco aveva candidato l'ex procuratore generale di Catania che è andato in pensione e si accontenta di presiedere il consiglio di amministrazione di una delle tante partecipate di Raffaele Lombardo abbiamo un Partito Democratico che è realmente con le ossa rotte abbiamo avuto l'arresto l'11 marzo del deputato regionale Gaspare Vitrano che intascava una tangente cioè i cittadini hanno lasciato il Partito Democratico alle elezioni con Anna Finocchiaro che era candidata contro Raffaele Lombardo si sono ritrovati senza poter battere ciglio senza poter esprimere la loro opinione con un gruppo una parte del gruppo dirigenziale che ha deciso da un giorno all'altro di allearsi e di sedersi sulle poltrone con Raffaele Lombardo e un'altra parte di giovani di meno giovani di circoli che non hanno avuto la possibilità di esprimersi democraticamente con un referendum che hanno chiesto in maniera insistente c'è una parte del Partito Democratico che non ha accettato l'alleanza con Raffaele Lombardo non è necessario neanche fare i nomi però Ignazio Marino per esempio a livello nazionale è uno dei rappresentanti più illustri di questa di questa corrente che perlomeno hanno espresso chiaramente una posizione ma qui non è stato concesso il referendum alla base ci sono stati da un giorno all'altro queste decisioni adesso abbiamo un Cracolici che vuole fare il sindaco di Palermo che dice portare avanti il percorso di cambiamento e quindi va a finire che ci ritroviamo con l'unica realtà autonomista in Italia che è il Partito Democratico in Sicilia cioè il vero movimento per l'autonomia in Italia non l'ha fatto Raffaele Lombardo ma l'ha fatto il Partito Democratico con una parte del gruppo dirigenziale che decide ogni giorno cosa bisogna fare decide ogni giorno quali decisioni prendere se ne frega della base che stando agli ultimi sondaggi e del consenso elettorale che praticamente li hanno abbandonati e fino a quando è possibile ricoprono queste poltone con Raffaele Lombardo Bene ringrazio Antonio Condorelli che cura le pagine di S in certo di cronaca del gruppo live Sicilia.it collaboratore del Fatto ce l'ha ricordato adesso anche di Report e Alfio Sciacca del Corriere della Sera per questa chiacchierata sulla vicenda che riguarda Raffaele Lombardo grazie ancora Grazie a tutti